Michele Palma, 47 anni, consulente informatico, vive a Marina di Carrara con moglie, due figli e due gatti. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che la delega a questa classe politica non funzioni e crede che i cittadini in questo momento delicato debbano farsi istituzione e partecipare in prima persona ai processi decisionali. Sogna con De Pasquale Sindaco che la nostra città torni a essere non solo un insieme di case e palazzi ma una comunità di persone.